E così i tabaccai non saranno più soggetti all'obbligo di accettare pagamenti elettronici quando il consumatore chiede di acquistare valori bollati, valori postali e tabacchi. E questa è la decisione del direttore generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che di fatto esonera i tabaccai dall'obbligo di accettare il POS. Il punto è che le motivazioni non convincono perché si ragiona sul fatto che l'agio, cioè il guadagno dei tabaccai quando vendono questi prodotti è molto ridotto, il 10%, il 5% e in più si dice da un punto di vista di evasione fiscale non ci sono rischi. Si dimentica però l'interesse del consumatore che sempre più spesso utilizza la moneta elettronica per pagare, non ha i contanti e quindi dovrà probabilmente per comprare un pacchetto di sigarette recarsi al banco ma fare un prelievo magari costoso, tutto ciò perché questa Agenzia dello Stato, questa pubblica amministrazione, si è dimenticata molto semplicemente dei cittadini.